Ciao a tutti ragazzi, sono Luca Nerazzurro e iniziamo di nuovo con una serie lunga di video. Allora, oggi mi sono scritto un po' di roba qua, quindi rimanete sul canale nei prossimi giorni perché usciranno dei video uno dietro l'altro, arriva il Natale, arriva un po' di ferie, un po' di festa e iniziamo con tutti questi video, arriveranno anche video sul mercato. Allora, di chi parliamo oggi? Prima di cui voglio parlare ha un nome, un cognome purtroppo, ed è Pavel Nedved. Nedved, che è uno dei dirigenti della sorella Juve, qualche giorno fa si è permesso, perché tanto si sa, intanto lui è brufolo, ve lo presento, quando non si sa cosa fare, non si sa cosa dire, basta buttare della merda sull'Inter. E quindi andiamo avanti così, oggi è toccato a lui. Cosa è stato in grado di dire? Che sarebbe andato ovunque per Mourinho, l'avrebbe seguito in qualsiasi club, ma Mourinho, siccome era all'Inter, non ha potuto venire all'Inter, non ha potuto. A parte questo, caro mio, noi non ti avremmo mai voluto, per quanto tu potessi essere veramente forte, dopo un passato nella Juve, stai tranquillo che da noi non ci avresti messo piede. Eri attratto dalla Champions e eri attratto da Mourinho? Non hai mai vinto la Champions, come dice il mio amico Enzo, che dice qua, che ha scritto uno stato su Facebook, adesso vi leggo. Caro Nero, dove l'hai vinto? Meno Champions League di Mariga, meno mondiali di Zaccardo, meno europei di Caragunis e le stesse coppe UEFA di Colonnese. Più dell'Inter puoi vantare solo un campionato di Serie B. Quindi tu vieni a dire a noi di non aver festeggiato mai uno scudato di cartone. Quale il cartone? Solo voi lo conoscete, perché siccome è stato assegnato in modo onesto e continuano a respingere i vostri ricorsi, non vedo dove sia il cartone. Però vabbè, chiamiamolo di cartone, anche se è l'unico scudato che mi fa godere più di tutti. Cioè tu mi fai la morale a me che non hai mai festeggiato uno scudato di cartone, non sai se sia giusto accertarlo così o accettare il fatto che ci sia stato attribuito e ti permetti di parlare tu che hai partecipato alla Serie B dove io non ci ho mai giocato. Ti permetti tu di venire a fare la morale a me di uno scudetto assegnato quando tu ne hai alzato uno di Serie B, pure contento. E non ti vergogni. Poi senti, eh, due domandine. Cioè Ballotelli ha vinto la Champions League e tu no. Ballotelli ha vinto la Champions League e tu no. E la cosa più bella è stata che tu dovevi venire la stagione della Champions. Al posto tuo è poi arrivato Snyder, al posto tuo è arrivata gente che ci ha fatto vincere. E tu non l'hai mai vinta, ti sei ritirato senza averla mai vinta. Ma di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? È solo godura pure a vederti così. E continua a parlare che noi continuiamo a smerdarti sempre di più. Ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace al video se anche voi state godendo per questa affermazione del cavolo di Nedvert. Non c'è altro da fare. È lo classico stile Juve. Lasciamoli parlare. Nella giornata del dolore, all'Inter. Abbiamo girato amore. Amala.